Allora, ti metto per comodità la gradavanti a mezzo, cos'è il meno... Ah, erano solo su per metà, lo sei ancora più là. Quella si è confenetrata nel corte. Ok, su la gradavanti. Ah, fico veloce, molto veloce. Eh, io ragazzi mi scuso, ma devo andare a prendere dal bimbo. Eh, via lento, principalmente. Ah, non so. Ancora come devi andare in testa. Allora... Oh, bigono! Oh, bigono! Oh, bigono! Oh, bigono, bigono! No, bigono! Oh, bigono, bigono! Come ti metto per metà, man. Mi sparo Stacco di merda Affondato, si Sì, affondato Spegnetevi in scena Ok, ok Sì No, la guardia non è riuscito a colpire Ok, ti ho rotto le vene Ce l'ho angeliato Mi chiamava in fiamme Ok Ok, hai iniziato a prendere i barili Visto che sono un po' schermo Da prendere le forme E niente, ha abbandonato la missione Fuck, che stronzo Alettata No, però poi li possiamo finirlo, boh? Eh, non penso No, ma cosa succede? Vediamo 1, 2, 3 Tadà Ben, eh?